Musica Ed eccoci come sempre puntuali ben ritrovati, nuovo appuntamento con informazione del TG4 di Telecupole. Apriamo questa edizione direttamente dalla Granda. Si è infatti tenuto nei giorni scorsi il 41esimo congresso territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo. Sentiamo in proposito le interviste realizzate durante questo importante evento. Partecipare ad un congresso per me è sempre emozionante. Vedere tanti artigiani, vedere i dipendenti, vedere una struttura che ti supporta è veramente uno stimolo ad andare avanti con tutte le difficoltà che oggi possiamo incontrare. Ma solo con una Confartigianato che accompagna ci possiamo sentire veramente protetti e indirizzati nella direzione giusta. La sostenibilità è comunque un percorso già avviato ed un percorso che tutti insieme dobbiamo essere motivati ad intraprendere. L'intelligenza artificiale merita veramente di essere conosciuta per non incorrere nei rischi, negli sbagli dietro l'angolo e saper cogliere solo ed esclusivamente le opportunità. Fare squadra tutti insieme e anche qui avere una formazione adeguata. Un momento importante, fase costitutiva dove si rivedono le regole, si aggiornano a quello che è la modernità dei tempi con un accenno importante a quella che è la sostenibilità, il tema ambientale, l'efficientamento energetico. Quindi una revisione che va in quelle che sono le regole di funzionamento ma anche in quella che è la visione con un ragionamento sul preambolo, sugli scopi, sul futuro. Un momento sicuramente importante per una associazione che guarda al futuro, che non si ferma, che riflette sul suo ruolo, sul suo scopo e si pone degli obiettivi importanti. Abbiamo voluto con un intervento esterno di un professore universitario, Federico Cabizza della Bicocca di Milano, provare proprio a ragionare su quello che è un po' l'intelligenza artificiale. Come oggi l'intelligenza artificiale è puntata nelle imprese, come può supportarle in quello che è un po' l'attività operativa quotidiana e non è un ostacolo ma ragionare. Ragionare e guardare al futuro è una disciplina che è giusto conoscerla, è giusto approfondirla ed è giusto porla a fianco di quella che invece è l'intelligenza artigiana, il grande saper fare delle nostre imprese, la grande laboriosità. Ci teniamo ogni quattro anni al congresso di metà mandata, andiamo a premiare oggi chi rimane con noi per tanti anni e in questo momento dove si parla di Big Quit, Great Resignation, queste grandi dimissioni che stanno attraversando il mondo del lavoro a livello mondiale, rimanere 25 anni in una struttura è un grande segno di forza, un grande segno di attaccamento. La nostra associazione fonda il suo lavoro su dei valori, dei valori importanti, ci fa piacere che i ragazzi restino con noi per così tanto tempo. Nonostante il Covid e la guerra in Ucraina, l'inflazione galoppante e i rincari energetici, negli ultimi tre anni il 91% delle aziende piemontesi ha mantenuto addirittura aumentato il proprio fatturato all'estero, solo il 9% ne denuncia un calo. Analizzando il numero di paesi in cui le imprese operano, oltre il 38% a rapporti commerciali con oltre 10 stati, Torino e Cuneo sono le province più attive. Sono questi i dati principali che emergono dalla prima indagine biennale condotta nel 2023 da Confindustria Piemonte. I dati invece sulle nuove immatricolazioni all'Università di Torino confermano un trend di continua crescita con oltre 20.000 nuovi studenti iscritti. Rispetto all'anno accademico 2022-2023 le lauree triennali sono stabili, le lauree a ciclo unico fanno registrare un aumento del 5%, mentre un vero e proprio boom per le lauree magistrali con un incremento addirittura, pensate, del 20%. Quest'ultimo dato è provvisorio perché è possibile immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale fino a gennaio 2024. Ed ora invece spazio alla riforme. Per Giorgio Meloni il premariato e la più potente misura economica. Sentiamo in proposito il nostro opinionista di fiducia, il professor Beppe Ghisolfi. Mi chiedono in molti ma perché Giorgio Meloni ha tirato fuori dal sacco questa riforma del premierato? Ma principalmente per due motivi. A un certo punto i presidenti del Consiglio si montano la testa e ritengono di essere in grado di dare le ricette per migliorare il funzionamento dello Stato. Questo era già successo a Renzi, che pure non è un politico sprovveduto, ma che oggi è ridotto l'1% dei consensi. E poi c'è un secondo motivo. Se parliamo di premierato, non parliamo di sanità, di scuola, del pronto soccorso che non funziona, delle pensioni che anziché aumentare diminuiscono ed è più difficile raggiungere il quorum dell'età, oppure di tanti problemi come la povertà che sta aumentando in Italia e l'economia che stenta a ripartire. Quindi meglio parlare di grandissimi problemi che non di problemi reali che interessano la gente. Piemonte con vista sul futuro. Torino è tra le cinque regioni italiane con 538 start-up innovative. In tutta la regione se ne contano 779. Per Diego Pastore, presidente Giovani Confartigianato, alle nostre aziende non mancano coraggio e voglia di fare impresa. Apre invece il bando a sostegno degli allevatori piemontesi per il risarcimento dei danni da predazione dai lupi. La copertura finanziaria complessiva è di 270 mila euro di fondi regionali. Sentite. Gli allevatori piemontesi possono contare anche per quest'anno sugli indennizi da parte della regione Piemonte per i danni subiti a causa delle predazioni dai lupi. L'assessorato regionale all'agricoltura e cibo ha aperto il primo bando per l'anno 2023 per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni al patrimonio zootecnico piemontese con una dotazione finanziaria complessiva di 270 mila euro di fondi regionali. Fino al 15 dicembre, data di scadenza del bando, gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini e altre specie di interesse zootecnico sul territorio regionale possono presentare domanda di contributo per l'indennizzo dei capi predati. Sia per gli animali uccisi, sia per gli animali feriti e dispersi nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 30 settembre 2023. Con il bando diamo aiuti concreti e sicuramente attesi dai nostri elevatori piemontesi in merito agli attacchi al bestiame da parte dei lupi. Si tratta della prima dotazione finanziaria con fondi regionali per il 2023 e nei prossimi mesi aprirà un secondo bando a copertura dei risarcimenti per la perdita dei capi al pasco alla fine stagione, dichiara l'assessore regionale all'agricoltura e cibo Marco Protopapa. Il bando è pubblicato sul sito della regione Piemonte. Si ricorda inoltre che in aiuto agli elevatori ad aprile 2023 è stato aperto il bando regionale dello sviluppo rurale 2023-2027 intervento SRA H17 con 1.350.000 euro di risorse per le misure di difesa del bestiame al pascolo per evitare gli attacchi da fauna selvatica e migliorare la reciproca convivenza. Invece Alessandro Bianchi, il nuovo presidente del Teatro Stabile di Torino. Nelle prossime settimane il Ministero della Cultura provvederà alla designazione del proprio rappresentante nel Collegio dei Revisori dei Conti. Bene, questa era anche la nostra ultima notizia. Termina qui l'informazione con il Tg4 di Telecupole. Io mi fermo qui, vi lascio la vignetta di Gianni Soria e vi ringrazio per la cortese attenzione. Ancora buona domenica a tutti voi, rimanete sintonizzati su Telecupole. Noi ci vediamo più tardi. Arrivederci. Noi ci vediamo più tardi. 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 Grazie a tutti.